FS Pro 2020 contiene la funzione Gestione Modelli, che si trova nella colonna di FS Pro 2020. Bisogna andare su Doc e lì trovate il tasto Gestione Modelli. Gestione Modelli ha 22 documenti che potete utilizzare per assicurarvi che tutto il gruppo di autori o un'organizzazione possano utilizzare la stessa struttura di documento. Questi modelli permettono di iniziare a scrivere immediatamente. Per esempio, se volete che un gruppo di autori scriva il verbale della riunione su una base consistente, selezionate il modello Verbali della riunione. Selezionate Inserisci e il modello verrà inserito. Come potete vedere, contiene moduli e blocchi. Anche nella struttura si possono modificare i moduli e i blocchi. È un inizio facile e veloce. In questo modo si aggiungono modelli integrati con FS Pro 2020.